Che meraviglia! Ci piacerà passare l'estate qui, Finny. Questa è diversa. Dobbiamo lavorare insieme per liberarci di lei. O chissà cosa ci farà fare. Benvenuta a casa nostra. Gli ospiti entrano per primi. È una tradizione. Ok. Grazie. Stai bene? Scusa, nessuno entra a palazzo se non viene suonato il corno reale. Ok. Dove sono le stalle? Le stalle? Sono da quella parte. Ma non vuoi fare un giro? Finny? Finny. Finny, aspetta! Oh, c'era. Lasci che l'aiuti, la prego. Ce la faccio, ce la faccio. Ecco, la prego, lasci che l'aiuti. Grazie. Signora, la prego. Grazie a tutti. Anne-Marie, la prego, mi permetta. Signorina, stai bene? Sì, potresti dirmi, per favore, dove vengono tenuti i cavalli reali? Insegnerò alla principessa Henrietta e al principe Arthur ad andare a cavallo. Oh, davvero? Oh! Loro non hanno mai cavalcato e giuro che non lo faranno mai, ma sono sicuro che ce la farai. Probabilmente. Voglio dire, sicuramente. Che cosa ha fatto? Non può essere così male. Sì, che può. Potrei non essere qui domani. Io sono Finni, comunque. Io sono... Eugene! Vostra altezza! Scusate, facevo conoscenza con un ragazzo dello staff. Sono molto preziosi. Staff. Vedo che hai conosciuto il principe Eugene. Principe Eugene... No, lui. Giusto. Sì, sei un principe. Continuate, prego. Vedi, è solo sulla carta. Sono sotto la custodia del re. E lui è il mio tutore. Sbrighiamoci. Il pomeriggio sarà impegnativo con l'esame della contabilità reale. Sì. È stato un piacere conoscerti, Finni. Sì, anche per me. Insomma, piacere mio, Eugene. Principe. Bene. Se stai cercando un cavallo... Flotti! Ciao! Non posso credere che tu sia qui! Non sopportavo il pensiero che foste separate. Grazie. Vi ringrazio molto. Finni, non preferisci portarla a fare un giro domattina? No. Non posso aspettare. Forza, ragazza. Facciamo del nostro meglio. Eh sì, è tale quale a suo padre. In che guaio mi sono cacciata? Mi servirà tutto il tuo aiuto con quei due lotti. Royal Rage. Prossimamente su Disney Channel.